grande la mia la fa sui cuscini fa morir fa morir mi stai guardando le zampe di dietro, che ti interessa? ecco, per vedere quando fa questo quando fa questo? questo ah, devo andarci sopra con tutte e quattro? questo è anche perché poi voi ce la vedete il più bello faccio un pezzetto di parmigiano vai, vai che ce l'aveva il parmigiano vai un pezzettino di parmigiano guarda come è prestata con le scatoline se no diventa muscoli io la faccio e io le faccio di vista formaggio poco perché il formaggio poi vista le bianco lì e se non le cose grandi ma che è il crosto di parmigiano? è una crosta troppo grosso era? no, no, è un po' dura ma non è un po' di parmigiano e beh, a questo voi è in 30 mesi è roba forte quindi se ce l'hai saltato sopra per scendere quindi ci puoi stare anche fermo perché è una superficie instabile non è un muretto non dipende da quella loro difficoltà che ha pure la parte posteriore sì, però è quello se io lo faccio su uno step è facile perché la superficie è stabile qua deve mettere le zampe dietro e deve anche però equilibrare la forza per stare in piedi non è tra quarto già per lui? no no non credo è solo che deve una cosa nuova ma lui lo sente che sotto quando ci mette le zampe va giù perché poi lì diventa perché una parte è stabile che vedo la parte che tipo è stabile anche quello lì però quello comincia a essere un po' quello è un po' lo step sicuramente lo fa poi quello lo devo ma sai che forse ha detto lei è piaciuto in questo parebbe sì se tu lo passi verso la fine della palla quando lui va avanti con le tue zampe eh sì però potrebbe girare gira eh potrebbe girare dai eh 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 te lo farò fare prima o poi ecco te qua tre zampe blu 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 e questa parte sarà anche il contrario sotto come la base? no però oscilla poi no? sì diventa ci sono cose fatte più o meno a quel modo per esempio quando io facevo agiti con nitro questa cosa le facevamo tanto perché l'equilibrio serve tantissimo come non c'è che ok condivid dividing Buongiorno